Buonasera a tutti e benvenuti a questo webinar di questa sera lunedì 20 febbraio. Io sono Giuseppe Girlando, penso che quasi tutti mi conoscete, sono il country manager di Dixen Italy. Ho ritenuto opportuno, e questa sarà la prima di una serie di webinar che faremo, ritengo sempre verso quest'ora, così saremo tutti comodamente a casa dopo cena. Per presentarvi una serie di strumenti di lavoro della Dixen, ma soprattutto anche una serie di incentivi che sono presenti nel nostro piano marketing e che è doveroso illustrarvi continuamente e costantemente perché in realtà danno l'opportunità di avere degli extra guadagni. Faccio esempio al Car Incentive Program che mensilmente sta vedendo sempre aumentare il numero dei qualificati o altri incentivi come ad esempio il prossimo che ci porterà tutti quanti al prossimo Leadership Camp in Ungheria alla metà di maggio. O ancora la crociera, quest'anno avremo l'opportunità di visitare Dubai, che è aperta praticamente a tutti quanti i distributori a partire dalla posizione di star agente. Voglio appunto iniziare con questo nuovo strumento di marketing realizzato dalla Dixen Italy e adesso adottato da tutti gli altri 10 paesi presenti in Europa della Dixen. Quindi questo è anche motivo di orgoglio personale che ciò che riusciamo a realizzare in Unitalia viene poi preso anche da tutti gli altri paesi della Dixen in Europa e probabilmente anche del mondo. Questo è uno strumento molto semplice perché è una presentazione della Dixen, una presentazione dei prodotti e una presentazione dell'attività. Viene stata realizzata sia in forma digitale, quindi la troverete disponibile all'interno del back office, quindi del Ganoderma Center, nella sezione Download, Presentazioni, avrete una presentazione digitale che potete utilizzare per le vostre webinar o presentazioni su Skype piuttosto che delle presentazioni in meeting. Oppure è presente anche una presentazione in forma cartacea, è stata realizzata con del materiale che dà un'immagine molto importante, con una rilegatura ad anelli per essere comodamente utilizzata più volte e con una grammatura di carta plastificata che la renderà praticamente indistruttibile. Quest'ultima versione è soprattutto dedicata per quei momenti che magari non avete una connessione internet o non avete dietro il computer e quindi per non perdere un'opportunità di un vostro nuovo contatto potete utilizzare questa forma cartacea, appunto questa brochure, che vi darà, vi aiuterà a dare una traccia logica e continua a quello che direte. Questa sera, appunto, oltre che a presentarvi questo nuovo strumento, desideriamo anche darvi dei piccoli suggerimenti su come dire e su che cosa dire. Vi ricordo che è sempre molto importante nella comunicazione come presentiamo una proposta piuttosto che del suo contenuto, perché le persone vengono attirate maggiormente dall'immagine e quindi da una comunicazione non verbale, da un tono di voce, piuttosto che dai contenuti. Quindi è molto importante che in questa vostra presentazione voi abbiate sempre un tono di voce molto dinamico, molto veloce, soprattutto molto entusiasmo in quello che voi andate a trasmettere al vostro nuovo interlocutore. Ma passiamo adesso al contenuto della nostra flip chart. Io solitamente quando faccio queste presentazioni inizio sempre cercando di avere delle risposte e di conoscere un pochino meglio il mio interlocutore. E quindi inizio in maniera molto semplice. La mia, il mio metodo personale, chiedo se la persona che ho di fronte è veramente, pienamente contento e soddisfatto della propria vita. Quindi cerco un pochino di abbattere delle barriere. E chiedo ancora, sei felice? Sorridi quanto dovresti? Io ho un modo di dire, se una cosa non ti fa sorridere, cambia. Bene, io lavoro in un'azienda che è presente sul mercato da 24 anni. E questa azienda è la DXN. DXN offre un'opportunità a tutti, a prescindere dalle proprie circostanze, a prescindere dalle proprie situazioni professionali, dal proprio passato, dal proprio vissuto, dai titoli di studio. Pensate che la DXN è presente praticamente in quasi tutto il mondo, andando a toccare anche dei paesi che sono veramente molto poveri. Soprattutto in questi paesi molto poveri, le persone hanno ottenuto dei risultati veramente incredibili. Quindi questo ci fa capire quanto la DXN sia veramente alla portata di tutti e per tutti. Passando nella seconda pagina, abbiamo praticamente una specie di indice che ci può aiutare a trovare subito i vari argomenti della nostra flipchart. Nella pagina 3 chiediamo a chi è rivolta questa opportunità. Beh, è rivolta a chi è molto impegnato a lavorare tantissime ore, ma non guadagna quanto effettivamente vorrebbe o pretenderebbe. Abbiamo queste situazioni che sono veramente purtroppo molto diffuse nel nostro paese. È rivolta a chi vuole avere più tempo libero. Questo secondo me è il valore forse più importante, perché molte volte noi ci impegniamo tantissimo, come abbiamo visto in precedenza. Magari abbiamo anche dei ritorni economici importanti, ma alla fine i nostri giorni di vacanza da passare con i nostri familiari o soltanto per noi stessi sono veramente molto pochi. Quindi forse oggi avere la possibilità e l'opportunità di fare tanti giorni di vacanza, forse questo qui è veramente un valore assolutamente incredibile. A chi desidera crescere, sia personalmente che professionalmente, basti pensare a tutte quelle persone che effettivamente non hanno delle gratificazioni dall'attività professionale che svolgono all'interno della propria azienda o anche in maniera imprenditoriale, individuale. Soprattutto a chi dà i sogni, non smette di sognare e ha voglia di portarli a termine, di realizzarli. Ma che cosa rappresenta questa opportunità? Questo è un modello di business semplice e innovativo, quindi non è assolutamente qualcosa di complicato. La Dixen ha voluto pensare a qualche cosa che sia effettivamente duplicabile. Come tutti sapete, la Dixen ha scelto 24 anni fa di utilizzare come sistema di commercializzazione il multilevel network marketing. Il multilevel network marketing si basa essenzialmente sul discorso della duplicazione. Quindi più una cosa è semplice, più è duplicabile. Più noi ci facciamo vedere troppo preparati, troppo professionali e troppo strutturati, più il nostro interlocutore sarà portato a pensare che è qualche cosa per lui assolutamente difficile. Ma è importante capire che in questa attività tu sei il proprietario della tua attività. Basta una piccola spesa iniziale e non si hanno assolutamente nessun rischio. Basti pensare oggi, se qualcuno vuole investire in un'attività di franchising, che investimenti vengono chiesti e soprattutto che rischi altissimi si incontrano. Si ha un grande potenziale di crescita, perché la DXN sostanzialmente non pone delle barriere professionali, delle crescite personali. I risultati sono proporzionati al tuo impegno. Quindi la DXN non promette assolutamente grandissimi guadagni, perché i guadagni li ottengono le singole persone con il proprio impegno, con la propria dedizione, con la propria passione, che mettono nel portare avanti il progetto della DXN. Ma perché scegliere l'opportunità della DXN rispetto alle altre? Perché è un modo per guadagnare facendo qualcosa che noi già facciamo naturalmente. Basta suggerire i prodotti che noi utilizziamo. È un modo per aiutare anche magari parenti ed amici a volte da uscire dalle situazioni difficili. Io ho conosciuto sia nella DXN sia in altre aziende dove ho operato precedentemente delle persone che effettivamente non avevano più risorse economiche, non avevano più possibilità di accedere a nessuna forma di credito da parte di istituti finanziari e soprattutto avevano anche esaurito tutti i prestiti da parte di familiari ed amici. Quindi quella volta che un conoscente, un amico così gli ha presentato un'opportunità come la DXN effettivamente loro hanno avuto delle grossissime soddisfazioni e sono usciti da delle situazioni molto difficili. I risultati raggiunti dalla tua rete rappresentano un guadagno per te perché in realtà più ottengono dei guadagni importanti i nostri collaboratori che fanno parte della nostra struttura e più i nostri guadagni proporzionalmente andranno ad aumentare. Ma a chi dobbiamo tutto questo? Lo dobbiamo a dottor Lim, Dottor Lim Siojin che nel 1993 ha voluto realizzare questo sogno. Pensate, il dottor Lim aveva già una posizione comunque molto importante in Malesia perché comunque era un altissimo dirigente di una società statale ma soprattutto veniva da una famiglia molto benistante. E quindi ciò che ha motivato il dottor Lim potrebbe sorprendervi perché non sono stati soldi perché come vi ho detto in precedenza lui già era una persona molto agiata. Realizzò che ci voleva un cambiamento e quindi decise di realizzare qualcosa per aiutare gli altri a fare lo stesso. Ma riuscite voi ad immaginare di trovare il coraggio di cambiare una carriera promettente perché era un altissimo dirigente per un'idea non testata perché lui quando ha avuto questo sogno di realizzare dei prodotti a base di canoderma non ha assolutamente dei test già effettuati eppure lui iniziò. E quindi questo è veramente molto importante perché a volte alcuni sogni che noi abbiamo all'interno possono farci realizzare qualcosa di veramente incredibile. L'azienda ha ormai 24 anni di attività quasi 25 e opera praticamente in tutto il mondo. Ha sviluppato una serie di prodotti tutti a base di canoderma che vedremo più avanti a base di questo fungo. Ha sviluppato tutta una serie di brevetti e oggi è veramente presente un po' in tutto il mondo. Siamo presenti in oltre 150 paesi e abbiamo oltre 6 milioni di distributori. Quindi il concetto che fu lanciato dall'XM World World è one market e ormai è consolidato. Noi ci vantiamo e siamo orgogliosi che la XM nel 2015 si è posta al 24esimo posto tra le prime 100 aziende di vendita diretta di multilevel nel mondo sfiorando quasi un miliardo di dollari. Siamo assolutamente certi che già nel 2016 questo 24esimo posto sarà da noi scalato. ma questo ci fa capire l'importanza e la forza di questa di questa azienda della nostra azienda il mercato dove dove noi operiamo è il mercato del caffè il mercato del caffè che ricordo è il secondo mercato mondiale subito dopo al mercato del del petrovino quindi è il mercato dove nelle borse mondiali più importanti ci sono maggiori maggiori scambi e in questa in questa slide vedete alcuni dati che possono sicuramente far comprendere al vostro interlocutore in che mercato importante noi siamo collocati con un prodotto molto importante quindi il caffè ha una fortissima domanda in tutto il mercato e ne viene consumato continuamente quindi noi siamo davanti a un prodotto che costantemente continuamente si consuma e viene riconsumato quindi non siamo davanti a un prodotto diciamo che venduto una volta non trova più sbocchi mercato degli integratori altro mercato molto importante pensate che un italiano su tre regolarmente utilizza degli integratori alimentari quindi pensate che altro mercato molto importante dove noi ci collochiamo il mercato dei succhi il mercato dei succhi pensate questo diciamo che è ancora un dato vecchio della Nielsen di cinque anni fa nel 2011 sono stati venduti oltre 600 milioni di litri di succhi per oltre 700 milioni di euro quindi ripeto la DXN è sempre presente in mercati molto importanti Ganoterma questo è stato praticamente l'idea del dottor Lim qui abbiamo appunto dei brevi cenni sul Ganoterma che voi sicuramente conoscete molto meglio di me io non mi sto a dilungare sugli effetti del Ganoterma io dico sempre una cosa la cosa più importante è farlo provare perché voi potete illustrare al vostro interlocutore tutta una serie di documentazioni di supporto fargli vedere tutte le ricerche scientifiche attestazioni di riconoscenza medica che ci sono state ma alla fine guardate la cosa più efficace è far provare il prodotto perché i nostri prodotti hanno un'efficacia incredibile e quindi sono probabilmente forse la testimonianza più importante alla fine la prova è quella che effettivamente fa la differenza altra cosa molto importante noi abbiamo una qualità riconosciuta a livello internazionale abbiamo tutta una serie di certificazioni che vengono costantemente addirittura alcune ogni tre mesi altre ogni anno che vengono riconosciute alla DxN e queste sono molto importanti che vanno dai prodotti biologici cioè dalla coltivazione biologica a come appunto vengono utilizzati tutti i processi di coltivazione di trasformazione del prodotto perché vedete i nostri prodotti non fanno promesse che non possono assolutamente mantenere e noi andiamo sempre a investire nelle nostre parole quindi i nostri ritorni di denaro della DxN vanno sempre a essere destinati nella ricerca e nello sviluppo e in una qualità sempre maggiore ed eccellente ma i prodotti della DxN dove si vanno a collocare quali sono i riferimenti li abbiamo visti in precedenza quindi abbiamo visto nel settore alimenti e bevande integratori alimentari pura igiene personale cosmetici quindi come vedete prendiamo quello che praticamente è il fabbisogno quotidiano di una famiglia di una persona anche qui io vado avanti velocemente e questo lo suggerisco anche a voi magari di fare una panoramica molto veloce su quelli che sono i nostri prodotti quindi abbiamo tutta una serie di caffè con zucchero senza zucchero con panna vegetale tè caffè arricchiti con il maca con il ginseng abbiamo il corby pine rose juice quindi anche qui abbiamo praticamente un panorama vastissimo su questi prodotti e ripeto il suggerimento sempre importante è quello di farli provare piuttosto che di fare dei racconti poi abbiamo tutta una serie di integratori che non riguardano solo il canoterma perché abbiamo anche il cordicex abbiamo il lion's mate il cumino nero abbiamo la spirulina che è uno praticamente degli integratori maggiormente diffusi e venduti nel mondo abbiamo prodotti per la pure igiene personale quindi il sapone shampoo bagno schiuma dentifricio prodotti di uso quotidiano abbiamo la signa della cosmesi con prodotti a base di aloe vera e con prodotti a base di ganoderma ma anche qui non smetterò di ripeterlo la cosa più importante è che le persone provino immediatamente e utilizzino i nostri prodotti per rendersi conto dell'efficacia parliamo adesso di quello che ha voluto così introdurre la DXN nel mondo per far conoscere i propri prodotti il modo più semplice per avviare la tua attività con una piccola spesa io qui non parlo di investimento perché l'investimento secondo me incomincia ad essere qualche cosa di importante noi qui veramente parliamo della spesa che forse settimanalmente andiamo a fare nel nostro supermercato i punti importanti da far focalizzare al nostro interlocutore quali sono? che non abbiamo vendita diretta perché noi abbiamo una serie di carrelli di siti web con annesso carrello dove effettivamente i consumatori possono acquistare direttamente quindi è la DXN che si occupa di fatturare e di spedire i prodotti direttamente a casa del vostro interlocutore non avete bisogno di fare magazzino e sappiamo quanto il magazzino vada a danneggiare economicamente un'azienda o un imprenditore perché è del denaro praticamente immobilizzato non c'è bisogno di un impegno di capitale iniziale soprattutto sarai tu a scegliere quanto tempo dedicare alla tua attività potrai scegliere anche di lavorare da casa utilizzando tutti quegli strumenti che oggi grazie alla tecnologia abbiamo a disposizione come webinar come skype come tante altre soluzioni sarai tu a scegliere quando lavorare perché tu sarai il capo ma questo deve farci riflettere che effettivamente sarai tu a decidere ogni tua scelta come funziona la distribuzione qui abbiamo diciamo una diapositiva che ci illustra in maniera molto sintetica nella distribuzione tradizionale il consumatore finale deve pagare dei margini di profitto come vedete a tutte queste attività che ci sono prima di arrivare da noi quindi abbiamo la fabbrica abbiamo il trasportatore abbiamo il magazzino centrale abbiamo il supermercato nella distribuzione della DXN che utilizza il sistema del multilevel sostanzialmente l'imprenditore acquista direttamente dalla DXN azienda produttrice e riceve sotto forma di bonus i guadagni degli intermediari quindi quell'80% che solitamente viene illustrato nelle strategie di marketing che si lascia nei vari passaggi in questo caso rimane praticamente nelle tasche del distributore della DXN quali sono i supporti che ci dà la DXN abbiamo dei supporti sul prodotto perché come avete visto vengono costantemente fatti degli incontri con dei medici o delle webinar con dei medici o con dei medici farmacisti abbiamo dei sistemi di supporto sul piano marketing e soprattutto con il back office che mette a disposizione la DXN abbiamo praticamente tutta una serie di informazioni sui prodotti della DXN di certificazioni di slide di presentazioni la struttura della DXN che cosa ci mette a disposizione l'amministrazione che provvede al pagamento dei bonus la contabilità e il servizio di logistica la DXN offre diverse forme di guadagno molto semplici il consumo pensate questa è una cosa assolutamente straordinaria e rivoluzionaria perché voi attraverso l'autoconsumo quindi attraverso il consumo dei prodotti per voi stessi potete avere degli sconti che poi generano dei bonus pensate che noi abbiamo nei nostri database nei nostri archivi ancora tanti denari che le persone ancora non hanno ritirato perché magari non sanno che la DXN offre questa opportunità incredibile abbiamo un reddito extra che ci può avvenire da un impegno part time perché magari noi siamo impegnati nel nostro lavoro e quindi possiamo dedicare soltanto pochi minuti poche ore della giornata o della settimana alla DXN questo comunque la DXN non ci trascura perché anche in questa situazione ci riconosce dei guadagni extra oppure abbiamo delle situazioni dove possiamo impegnarci a tempo pieno quindi a quel punto abbiamo dei guadagni limitati a vita e soprattutto ereditabili ma pensate voi sicuramente siete a conoscenza che magari siete dipendenti di un'azienda anche molto importante ma questa non garantisce comunque un'eredità ai vostri figli perché nel momento in cui voi andate in pensione il vostro rapporto con l'azienda si chiude ottenete il trattamento di fine rapporto e si finisce lì al contrario la DXN il codice che voi avete con la DXN tutto quello che avete realizzato un mercato che avete aperto centinaia o migliaia di collaboratori che avete coinvolto andranno ai vostri familiari ai vostri eredi e direi che questo è veramente una cosa incredibile pieno marketing come vedete qui lo illustriamo in maniera molto sintetica perché noi dobbiamo dare delle informazioni veloci al nostro interlocutore e non lo dobbiamo annoiare quindi facciamo capire quali possono essere le forme di guadagno attraverso le percentuali che la DXN riconosce quindi distributo si va dal 6 al 18% sconto personale dal 15 al 25 star agent e quindi arriviamo al 29% più un 15% di bonus sviluppo star ruby 31-35 e poi per arrivare alla posizione di diamante dove effettivamente arriviamo a delle percentuali che sono molto molto interessanti ma non finisce qui la DXN appunto ha implementato con dei programmi con delle possibilità di poter fare degli extra guadagni una di queste è il car incentive program che con la macchina non c'entra assolutamente niente noi l'abbiamo voluto battezzare così perché diciamo che nell'attività di un distributore della DXN la macchina è molto importante perché solitamente si deve muovere per andare a incontrare nuove persone per organizzare dei meeting o per andare a trovare e fare dei corsi di formazione ai propri collaboratori e quindi la DXN ha pensato che di omaggiare tutti i distributori della DXN di un extra bonus per acquistarsi una macchina fino alla possibilità di guadagnare 500 euro al mese per tre anni quindi sostanzialmente la rata che si può pagare per una macchina molto importante l'incentivo è veramente molto semplice io vi assicuro che ci sono tante persone che magari non lo sanno e quindi arrivano molto vicine a raggiungere questo incentivo gli manca soltanto una virgola e non lo raggiungono proprio questo è uno dei motivi che abbiamo deciso nel prossimo webinar di illustrarvi in maniera dettagliata questa opportunità tra gli altri bonus che offre la DXN c'è ad esempio il raggiungimento di 150 euro per acquistare uno smartphone oppure un bonus in denaro di 1000 euro per fare un viaggio all'estero e andare magari in Malesia a visitare le piantagioni e poi praticamente il Travel Seminar Incentive Program che dà la possibilità a tutti i distributori di vincere una crociera offerta dalla DXN a questo punto arriviamo praticamente fatta tutta questa premessa come si può partire quindi la cosa importante è come costruire il tuo team proponi la nostra opportunità a tutti quelli che conosci e che possono essere dei potenziali team member quindi senza anche qui anzi fare quello che fa la DXN cioè non creare assolutamente nessuna barriera e dare questa opportunità e presentare questa opportunità veramente a tutti quanti come costruire il tuo team training e supporto quindi individuare quelli che sono praticamente le persone che possono far parte della tua squadra contatta fai questa presentazione magari utilizzando questa flip chart incomincia a organizzare qualche meeting dell'opportunità e iscrivi 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 questa è veramente la cosa più importante perché oggi abbiamo nel panorama del multilevel tantissime aziende quindi non dovete assolutamente pensare che una persona che si è iscritta ormai è vostra probabilmente quella persona domani sarà contattata da altre 5 aziende di multilevel con dei prodotti più o meno validi e quindi sarà tratta magari da facili guadagni o da nuove opportunità quindi è molto importante sempre mantenere molto alto il livello di iscrizione i nostri punti di forza quali sono abbiamo un codice di iscrizione a vita quindi sostanzialmente una volta che si fa l'iscrizione iniziale non bisogna più rinnovarla è sufficiente acquistare un solo prodotto magari un solo dentifrice all'anno per mantenere il codice attivo in tutto il mondo ci sono attività di training e di supporto costantemente e continuamente per poter sempre tenere informati e formati i nostri distributori il nostro modello di business è assolutamente consolidato 24 anni 24 anni di attività e di 6 milioni di distributori non sono assolutamente un dato non significativo non c'è nessun limite di tempo per poter raggiungere le posizioni quindi non si è agganciati a dei periodi dove poi bisogna ripartire da zero assolutamente ci si può impiegare tutto il tempo che si vuole le qualifiche sono consolidate quindi una volta raggiunta la posizione di star agent star ruby star diamond e così via non si retrocede il nostro è un sistema di punteggio accumulabile quindi non si retrocede mai ma si accumula sempre costantemente non c'è assolutamente nessun rischio c'è il massimo della flessibilità quindi non ci sarà mai qualcuno che vi telefona costantemente per farvi partecipare a un opportunity meeting dal vivo ogni lunedì sera assolutamente la nostra azienda è molto attenta a riconoscere e a gratificare chi ha raggiunto dei risultati molto importanti e per ultimo ma non certo per importanza si può operare con questo codice in tutto il mondo quindi quando voi dormite magari in Australia un vostro parente si alza e va a acquistare il caffè voi avete guadagnato dei soldi a questo punto abbiamo preparato delle quattro domande chiuse perché effettivamente noi vogliamo chiudere quella persona che è di fronte a noi quindi non vogliamo aver fatto soltanto un esercizio di dialettica o di public speaking ma vogliamo effettivamente concretizzare perché ricordo sempre che nel momento in cui si inizia una presentazione con una persona dobbiamo essere focalizzati sul fatto che alla fine il nostro tempo deve essere pagato quindi quella persona dovrà iscriversi la prenderai sul serio dedicherai il giusto tempo e impegno che richiede una nuova impresa quindi non cerchiamo persone che vogliono semplicemente giocare sei motivato hai voglia di lavorare a stretto contatto con il tuo team e imparare dagli altri perché vedete che nel multilevel un aspetto molto importante è l'umiltà perché effettivamente anche le persone io ne ho conosciute tante che hanno raggiunto delle posizioni molto elevate continuano a fare dei corsi di aggiornamento continuano ad andare magari da networker di altre aziende per imparare perché in questo lavoro non si finisce mai di imparare sei pronto al cambiamento e dirai a tutti quello che stai facendo perché vedete il network è il multilevel si basa proprio sul fatto della comunicazione sul fatto di dire a tutte le persone che sono a una distanza di 5 metri da te dell'opportunità della tizzer hai voglia di pensare in grande sognare in grande e raggiungere nuovi obiettivi perché vedete se la persona effettivamente non è una persona che ha grossi stimoli che ha grosse ambizioni sarà sempre quello che comprerà solo una saponeppa al mese che non ne parlerà nessuno dalla DXN quindi effettivamente non potrà essere una persona che ti farà crescere ti piacciono i nostri prodotti? ti piace il nostro business? bene allora il tuo prossimo passo è iniziare e come iniziare? innanzitutto iscriversi compilare l'application form oppure andare su internet e farlo online direttamente e poi iniziare subito acquistando il kit che preferisci noi offriamo due soluzioni una è il DSP che poi è articolata su tre livelli e lo IOC è l'ice ice of cake la ciliegina sulla torta che insieme al DSP offre immediatamente una possibilità di guadagno immediata il DSP io propongo sempre di partire con quello da 585 euro che è quello che praticamente dà il 150% di sconto perché se uno ha le idee chiare è giusto che noi gli diamo subito l'opportunità migliore scendere si fa sempre in tempo arrivare al DSP da 118 euro facciamo in tempo ma noi dobbiamo presentare il prodotto migliore che abbiamo e che garantisce al nostro interlocutore le possibilità di guadagno maggiori al termine organizza il tuo prossimo incontro non deve essere per forza un meeting con tante persone può essere immediatamente un incontro con una sola persona però è importante immediatamente parlare di questa opportunità ed è importante immediatamente attivare il discorso della duplicazione perché se noi facciamo fare agli altri quello che abbiamo fatto a noi il nostro business si duplicherà in maniera assolutamente esponenziale si ispirato ispira gli altri sentisi sempre ispirato e soprattutto ispira gli altri sul progetto della DXN io vi ringrazio la presentazione della flip chart è terminata io se voi adesso avete delle domande tenterò perché non sono penso che avete il microfono dove potete fare delle domande oppure potete scrivere in chat sono certo che questa presentazione vi sia piaciuta potete personalizzarla come volete la cosa importante è che la utilizzate noi abbiamo voluto cercare di uniformare un po' la comunicazione della DXN perché ad oggi un po' ognuno giustamente si sta organizzando come come meglio ha creduto noi abbiamo voluto ripeto fare questo tipo di prodotto affinché che ci sia un linguaggio comune in tutta Europa è ovvio che poi ognuno la può personalizzare come nel senso verbale come ritiene più mi stanno chiedendo se sono possibili le slide si le slide sono come ho detto nell'introduzione è possibile scaricarle da ganodermacenter.eu che è quindi l'intranet che utilizzano tutti i distributori europei nella sezione di sinistra nel menu di sinistra download nella sezione presentazioni troverete flipchart quindi è possibile scaricarle assolutamente gratuitamente chi vuole invece il cartaceo è possibile acquistarlo presso la nostra sede e ti aver inviato a casa allora mi hanno fatto una domanda che mi fa piacere rispondere anche se non era diciamo argomento del webinar se il blog e il portale verrà aggiornato come avete visto avete partecipato tutti a un sondaggio che è terminato il mese scorso quindi adesso gli informatici della Dixern hanno raccolto tutte le così le richieste tutti i suggerimenti e i miglioramenti che sono venuti da tutti i distributori europei e stanno cercando di migliorare se non di implementare se non di trasformare del tutto quelli che sono appunto i siti web dei distributori e il intranetter allora dato che non ci sono domande ulteriori io vi ringrazio per la vostra attenzione e per la vostra partecipazione vi ricordo che se avete ulteriori domande potete scrivermi direttamente a giuseppe.girlando chiocciola di xenitaly.com avrò il piacere di rispondervi immediatamente grazie ancora e buon proseguimento miserata buonasera